No, no, niente Loredana, eh? Tanto il telefono non te lo ridò. E poi, regola numero uno, seduta composta bene, sei in un posto di lavoro serio, nel cuore dell'azione. Regola numero due, basta romanesco. E non ho parlato romanesco. Annamio, famio, bregamio. Che vuol dire bregamio? E adesso vuoi dirmi perché sei qui, sì? Katia, guarda, tu sei gentilissima. Sì, lo so. Veramente un cuore d'oro, però non mi va di abusare della tua disponibilità. Già sei qui, oberata di lavoro, nel cuore dell'azione, ti ci manco solo io nelle orecchie che ti sdigo. Orecchie, orecchie con la O. Orecchie. Non ne erecchie, ne erecchie, no. Non mi dite? Orecchie. Orecchie. A bocca, no. Bocca, ma lo so. Dillo, prova a dirlo. Bocca. Bocca? No. O naso. No, no. Il naso. Aspiratore. O guarda un mano quanto è bella. I piccoli, stanno mingati i piccoli. Orecchie, ma no.